pronto a dire c'è dire da tu cucinata perché non provare perché come hai visto che è messa congata tu sei imparici tu per me non è solo per me che è la scena ma Vichu ma Vichu davvero tu sei in tessato ma Vichu ma Vichu grazie a tutti ma tu sapete quanto sei ma ii ma io maestro devo lavorare su, per un'altra inglese acippi 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 ma che fu maestro? che sono andati a vivere e ora ora ci siamo io maestro maestro maestro? vabbè 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 ora ci siamo vabbè maestro ora ci siamo vabbè maestro ora ci siamo 100 euro massimo no aspetta aspetta non mettere monellino no io non sono monellino no l'altra volta mi stai vuoti e tu ne sei venuto meno non sai perché tu sei ne sei venuto meno ecco io con quello mio la ricetta ce l'ho pagata io non ti preoccupare massimo che i giornalini te li do io che prendo la tredicesima dai non dica se ma tu l'hai visto prima l'ultimo anno è stato sempre puntuale tu lo sai vero massimo? sai tu lo sai mi pavano incomeno mi pavano solo dinari i bastardi non mi hanno pagato si ma tu mi hai detto le mie mani e io lo sai e lo so lo so massimo ma lo so hai regione grazie grazie ma dove erano per stasera cazzo? eravamo solo votato diventato di 100 euro e no no prima ci ha buttato i soldi a città io non ho potuto fare il testamento l'ho visto ci ha buttato io prima ti ballo giumano no iano sono proprio tutti i miei amici a raffare un mondo capisci?